Assolutamente benissimo, volevamo ringraziare Angelo per la disponibilità, l'organizzazione impeccabile e la puntualità e soprattutto la cordialità, quindi lo consigliamo a tutti perché sono veramente unici, giusto? Assolutamente sì, non posso altro che confermare. Grazie ancora a Angelo e a tutto il suo team. Grazie. Assolutamente no, sono venuti benissimo. Grazie. 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 Grazie.